Wolf, storie che contano, il podcast di cui non sapevi di aver bisogno. Guardare questo podcast non vi renderà automaticamente ricchi. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a una nuova puntata di Wolf. Ospite con noi per questa puntata, Luciano Moggi. Un momento applauso. Ma eravate tutti voi che facevate l'applauso? Eravate tantissimi, pazzesco. Allora, Luciano Moggi, per chi segue il calcio, è una figura che non si può non conoscere. È stato un dirigente sportivo che ha scoperto tantissimi talenti. Forse il più grande talent scout che la Juventus abbia mai avuto. Hai scoperto talenti come Paolo Rossi e Gaetano Scirea. Un uomo che nel bene o nel male lo si conosce e che in qualche modo ha segnato la storia del calcio italiano. Come ti piacerebbe essere, come ti definiresti rispetto al calcio? Io non mi so definire. Mi devono definire gli altri. Credo di aver dato quello che praticamente in tanti non hanno dato. Io ho sempre gestito le società di calcio in una maniera un po' particolare vincenti, ma soprattutto guardando i bilanci. Le società mie dove sono stato praticamente hanno portato bilanci seri e sani. Ecco, tanto per fare l'esempio della Juventus e l'ultimo, noi praticamente in 12 anni non abbiamo mai chiesto niente alla proprietà. Siamo sempre andati avanti con le nostre forze e dando qualcosa anche agli azionisti di minoranza durante l'assemblea. Io partirei proprio dal principio. Tu nasci nel 1937 a Siena e sei un grandissimo appassionato di calcio, tanto che tenti la carriera calcistica come difensore. Sì, però non era il mestiere mio. Non era la tua cosa? No, io praticamente, cioè non era il mestiere mio. Io sono arrivato alla Serie D che adesso potrebbe essere equiparata alla Serie C. Siccome sono un giudice severo più su me stesso che sugli altri, ho pensato che non avrei avuto uno sfondo particolare, per cui ho preferito tagliare corto, fare un concorso in ferrovia da capogestione. Da lì, siccome avevo fatto una prova con la Juventus, avevo stabilito dei rapporti abbastanza buoni con l'allora ragioniera Merio, che era il segretario, gli chiesi se potevo fare l'osservatore, lui mi risposesi e da lì è cominciato Moggi come Tane Scout. In che anno hai iniziato a collaborare con la Juve come ricercatore di giovani talenti? Beh, io sono nato nella Juve, direi, come settore giovanile, come osservatore, come dirigente anche di prima squadra, dal 60. Dal 60. Non si può dire perché altrimenti fanno i conti, dicevo. Che ricordo hai invece di Gianni Agnelli? Che ruolo aveva? Era un ruolo presente o delegava per lo più? Beh, Gianni Agnelli, diciamo che descrivere la figura di Gianni Agnelli è difficile, è un uomo carismatico, un uomo che diceva tre parole e diventavano un libro, vuole dire, quindi, con il quale io ho avuto rapporti eccellenti, devo dire che basta pensare che il giorno prima che morisse, ha chiamato a casa, a sua, il sottoscritto è l'IPI, siamo stati lì un'oretta a parlare, dopodiché lui si è lasciato andare in una frase che veramente a me ha lasciato il segno, e cioè mi ha detto chissà se vi posso rivedere. E dopo un giorno o due è morto, hanno inventato di tutto, tra me e l'avvocato, per esempio, c'è stato un momento in cui qualcuno ha scritto che io dicevo bugia all'avvocato, è il caso di Vieri. Il caso di Vieri? Il caso di Vieri praticamente che nella sostanza doveva essere sceduto, almeno così dicevano i giornali, e io però avevo detto all'avvocato il giorno prima dell'assemblea, avevo detto all'avvocato, guardi, avvocato, io Vieri non lo do, perché mi hanno offerto 28 milioni in cinque anni, e quindi ritengo che sia una trattativa inutile. E l'avvocato mi disse, vabbè, allora io dirò in assemblea Fiat, dove mi chiederanno più della Juve che non della Fiat, dirò che mi ha detto moggi che Vieri non si cede. Infatti lui ha detto questo, solo che io, nel momento che lo dicevo, ho venduto Vieri. Chi l'ha venduto? Io. Ah, tu l'hai venduto? Sì, perché, perché, ma no, ma c'è un motivo. Diciamo che il problema di fondo è che è venuto Vieri in sede, ha cominciato a fare un po' di... il gradasso, io voglio cinque miliardi, io voglio giocare titolare, eccetera, e l'aveva mandato ovviamente la squadra che lo voleva, cioè l'Atletico Madrid, nella persona del presidente Kiel. Io gli dissi a Vieri, dico, guarda, tu queste cose qui le devi fare a casa tua, qua non è casa tua, però se vuoi andare veramente via, io so anche chi ti ha mandato, tu vai da loro, o meglio li telefoni, gli dici che io voglio 36 milioni che esce. Se questi qui accettano, tu sei libero di andare all'Atletico Madrid. Lui fece una telefonata, dopo poco arriva, e io l'ho venduto. Poi però, ho telefonato all'avvocato, che credevo fosse ancora in assemblea Fiat, era già partito. L'aveva già detto. No, aveva già detto questo, Moggi mi ha detto che... Allora l'ho trovato, perché era andato in elicottero a Canes, l'ho trovato in un'assemblea a Canes, e me lo so fatto passare dal centralino di Casagnelli e gli ho detto, dico avvocato, gli ho spiegato quello che era successo. Lui mi ha detto, hai fatto bene, adesso però comprami uno che segna gol, io ho preso Pippo Enzaghi a 15 milioni e praticamente è diventato capocannoniero alla fine dell'anno. Per cui non è che ho detto una bugia come tanti hanno voluto sottolineare, ho detto un qualcosa che praticamente l'avvocato ha tenuto in attenta considerazione, tant'è che a me non mi diceva fai questo, fai quello. Mi telefonavo la mattina alle 5 e mezzo per dirmi ci abbiamo novitato. Quindi questo qui era già un qualcosa che testimoniava la fiducia del soggetto. E devo dire... Anche perché nel senso se mai fosse veramente accaduto che tu gli avessi raccontato una bugia ti avrebbe potuto mandar via o si avrebbe potuto risentire, no? C'era un rapporto amicale, direi. Sia con lui che il dottor Agnelli perché poi il vero manager della Juventus in quel momento lì non era l'avvocato, era il dottor Agnelli che aveva assunto le redini della Juventus. Quindi lì eravamo praticamente in una collaborazione tre persone una meglio dell'altra. Io mi escludo diciamo con il dottor Giraudo e Roberto Pettega un ex giocatore e un amministratore come Giraudo veramente importante avevamo fatto un trio che sostanzialmente aveva in mano una situazione sia tecnica che economica. E tant'è che in 12 anni noi abbiamo sempre avuto il bilancio attivo e abbiamo dato appunto come dicevo prima piccole somme agli azionisti di minoranza durante l'Assemblea. e questa è una soddisfazione perché abbiamo anche vinto tanto. Curiosità nel periodo da direttore sportivo qual è l'affare di cui ti sei sentito più orgoglioso di aver portato a casa? Beh se devo dire quello che mi ha dato più soddisfazione perché era il meno conosciuto dico Zola Zola perché Zola l'ho preso per il Napoli in sostituzione di Maradona o meglio in alternativa a Maradona quando Maradona mancava e devo dire che prenderlo dalla Serie C quando tutti praticamente dicevano che era bravo però fisicamente non diceva niente è stata per me una soddisfazione perché si è manifestato un campionissimo sia in Italia che in Inghilterra tant'è che gli hanno dato praticamente il SER che è il titolo praticamente dei nobili inglesi e questo qui è una soddisfazione poi dopo giocatori portati così ce ne sono tanti Paolo Rossi è un qualcosa che praticamente mi ha dato particolare soddisfazione ma è diversa da quella di Zola perché questo era già un giocatore già si sapeva nel 94 torni alla Juventus nel ruolo di direttore generale quindi una sorta di CEO della squadra può aver senso e in cosa consisteva il tuo lavoro in quel periodo hai mai avuto paura di non riuscire a fare abbastanza rispetto al ruolo che ti avevano attribuito? No io non ho mai avuto paura di niente anche perché secondo me la paura era più brutta consigliera ero abbastanza maturo per portare avanti tutto quello che è da portare avanti in una società di calcio anche perché l'esperienza mi ha portato appunto a fare settore giovanile settore osservatore fino alla prima squadra per cui il problema di fondo non me lo so ma a posto per me era fare una squadra non fare debiti praticamente per l'azienda e portare avanti quello che praticamente il brand della Juventus in una maniera più giusta io credo di essersi riuscito ma non è che ero solo bravo io ripeto ma ero circondato da persone che sapevano Giraudo e Bette che erano due persone vicine a me che facevano un lavoro eccellente uno per la parte economica uno per la parte praticamente diciamo di rappresentanza di rappresentanza e io che facevo il discorso squadra per fare questo lavoro qua è importante praticamente avere il carisma necessario per combattere con i giocatori che sono praticamente di paesi diversi quindi culture diverse atteggiamenti diversi esatto e io su questo argomento qui mi sono sempre trovato bene poi dopo ho cercato di avere collaboratori giusti e i collaboratori miei sono stati sempre giusti e gli allenatori pochissimi perché io nella Juve per esempio l'Inter Moratti in 12 anni ha avuto 25 allenatori io solo 3 Capello Lippi e Carlo Ancellotti perché quando cambi troppo praticamente vuol dire o sbagli tu o sbagli chi sta con te e di conseguenza ci vogliono delle correzioni io questo non ho mai avuto bisogno di farlo ho centrato l'obiettivo su determinate persone e con i miei collaboratori praticamente ho portato avanti un discorso importante che ripeto ha portato la Juve a giocare 12 anni senza spendere una vita arriviamo al famoso 2006 che è stato diciamo un periodo che secondo me non ricordi con grande piacere però è stato anche forse l'evento che ti ha fatto conoscere anche a chi magari non segue il calcio in qualche modo sei diventato un po' una figura che fa parte un po' della cultura generale della storia italiana in qualche modo questo è vero è vero che ne facevo tranquillamente a meno secondo te esiste il calcio italiano dopo calciopoli è cambiato e se sì in che modo beh dopo calciopoli è cambiato in tutto anche perché diciamo che noi non eravamo i capi del calcio però davamo un input abbastanza importante è abbastanza importante e questi input e questi input importante poteva essere anche di aiuto alla federazione e al calcio italiano perché perché in quei tempi lì nelle società di calcio giocavano gli stranieri di prima categoria cioè giocavano che ne so trese che giocavano dei champs giocavano quelli bravi e poi dopo misti a questi bravi che erano un totte di numero da scendere in campo c'erano dei giocatori italiani che crescevano giovani e la nazionale era alimentata se guardiamo quando abbiamo vinto il campionato del mondo a Berlino c'erano nella nazionale italiana c'erano sei giocatori della Juventus più l'allenatore Lippi più il massaggiatore Esposito questa è la nazionale italiana nella finale con la Francia a Berlino dall'altra parte c'erano quattro giocatori della Juventus e erano Trezeguet e dunque Trezeguet e poi chi altro mi sfuggi con il Turam Turam Viera ecco è un altro misterioso no no misterioso Trezeguet Turam Viera no De Champs non c'era più era un altro vabbè un altro comunque aveva un impatto e credo che questa partita tra la nazionale francese e la nazionale italiana quasi quasi assomigliava a una partita amichevole che la Juventus fa tutti gli anni a Villar Perosa perché erano dieci giocatori tra l'una e l'altra squadra della Juventus che si combattevano tra loro questo era il motivo per cui erano diventati altri tempi il calcio italiano era valorizzato nel mondo perché è la nazionale che valorizza il calcio e noi facevamo tutto il possibile perché venisse valorizzato poi dopo è successo di tutto adesso se guardiamo il calcio di ora quando giocano intanto i giocatori bravissimi non vengono più e se noi vogliamo qualcuno di nome li prendiamo a 35-36 anni e quindi sarebbe meglio che stessero a casa loro a fine carriera esatto e quando giocano dieci giocatori in una squadra di calcio tolgono ai ragazzi italiani prima di tutto la voglia di andare a giocare e poi soprattutto non vengono valorizzati come dovrebbero non li fanno crescere non li fanno crescere perché guardano dalla panchina spesso la partita e questo è il male del calcio di ora cioè è un calcio globale la libera circolazione si può stare però siccome un'infederazione ha il potere di dire possono giocare 5 o 6 stranieri il resto devono essere italiani a quel punto lì se facesse un provvedimento che non è mai esistito promesso sì ma mai esistito probabilmente la nazionale italiana sarebbe molto meglio di quella che è adesso chiaro e invece anche un'altra cosa adesso è subentrato Spalletti a Mancini ma Spalletti troverà tutti i problemi che ha trovato Mancini se le cose non cambiano eppure guardi da non esperto di calcio mi domando perché comunque possiamo dare per assodato che nella narrazione generale anche per chi non segue il calcio la Juve si porta dietro un odio sì è vero in qualche modo che mette d'accordo un po' tutti per quale motivo un fondo di verità ci sarà è tutto leggenda c'è perché in Italia praticamente siamo propensi a uccidere chi praticamente si eleva un po' di sopra degli altri questo per quanto riguarda le partite siamo noi praticamente quelli che devono dire questo e per quanto riguarda poi l'azienda l'azienda è strutturata in maniera tale professionale professionistica cosa che difficilmente si può trovare nel calcio adesso sì ci può essere l'Inter Mila soprattutto l'Inter che è strutturata in una maniera ma anche il Mila ma comunque il Napoli adesso sono diverse le società però la Juventus ha sempre portato un cliché diverso di diciamo di modi di fare di impiego di giocatori di tutto quello che attiene praticamente ad una società che si chiama azienda non società sportiva questo fatto di aver vinto molto e di essere strutturata in maniera migliore degli altri ha portato l'odio perché in Italia chi praticamente riesce ad emergere è praticamente odiato è un fatto un po' generale che non deriva solo dal calcio ma è proprio un fatto insito nell'italiano e la Juventus si porta avanti questo nome perché per esempio che ne so io domenica passata c'è stato Juventus e Lazio la Lazio ha fatto silenzio stampa dopo la partita perché credeva che un pallone fosse uscito invece il pallone stava in campo ed è stato il pallone del gol del primo gol e queste sono cose che nell'immaginario del tifoso che conosce praticamente poco il calcio da dentro fanno presa ma veniamo al calcio odierno no soprattutto al calcio italiano oggi tante delle maggiori squadre italiane sono economicamente in perdita perché sbagliano in cosa sbagliano secondo te sbagliano perché non ci sono più i dirigenti che guardano i bilanci ci sono i dirigenti e le società che non sono in perdita sono indicate in maniera precisa e individuate nei dirigenti per esempio in Napoli è una società che dalla CIA è ritornata in serie A ad alti livelli ha un bilancio positivo e più è una delle poche con un bilancio positivo no ci sono c'è l'Atalanta c'è il Sassuolo cosa manca al calcio italiano rispetto al calcio degli altri paesi europei e mancano i giocatori di prima categoria cioè adesso il calcio praticamente è libera circolazione i giocatori di prima categoria non vengono più in Italia perché è un calcio fatto di polemiche poi pagano meno e preferiscono la Premier quindi vanno tutti in Inghilterra se qualcuno di quelli di terza e seconda categoria stranieri si valorizza parte e va in Premier quindi è impoverito il calcio italiano da tutte queste cose soprattutto dal fatto di voler far giocare i giocatori stranieri anche 10 anche 11 nella stessa squadra e questo è un motivo dunque è stato fatto un decreto il decreto crescita che si chiama che riguarda gli stranieri che vengono per la prima volta in Italia e vengono pagati meno c'è praticamente un decrescere delle cifre da pagare e nella sostanza fa cassa di risonanza la FIFA anziché la federazione italiana a gioco calcio e questo porta praticamente a comprare più volentieri stranieri perché costano meno e prendono anche meno di stipendio piuttosto che gli italiani perché prendere gli italiani significa fare anche le fiduzioni e la maggior parte non le fanno ma rispetto alla vincita degli europei che cosa è stata la chiave vincente che gli ha fatto vincere la chiave vincente mi parli di capire che ci fosse un gruppo tra Mancini Gianluca Vialli no è inconviabile il gruppo Vialli-Mancini però la sostanza è un'altra è che lì c'è stato un portiere che praticamente ha fatto vincere all'Italia a quattro partite e le quattro partite erano quelle terminate ai rigori lui parava tutti i rigori gli altri e questo è stato determinante per portare avanti la nazionale italiana poi era anche un periodo estivo in cui tanti non avevano bisogno di mettersi in evidenza praticamente delle squadre straniere e quindi andavano a fare praticamente non dico una passeggiata però era un qualcosa che potevano tranquillamente fare in una certa maniera non impegnandosi all'eccesso ma la sostanza vera di questa vittoria è Donna Roma che ha parato quattro volte e ha fatto vincere l'Italia con le partite finite a rigore la Superlega Andrea Agnelli a un certo punto fa questa proposta molto contestata molto soggetta a polemiche della Superlega e c'è un video secondo me che attualmente sta andando molto virale sul fatto che sostanzialmente Andrea Agnelli dice ok voi non volete la Superlega ma non comprendete il fatto che esiste già una Superlega in qualche modo ed è per l'appunto la Premier League la Premier League è praticamente una Superlega perché paga molto di più di quella italiana ma sono società più ricche hanno praticamente un mercato diverso hanno un mercato diverso dove confluiscono tutti i giocatori bravi e anche gli allenatori attenzione quindi è diverso il discorso quando si va praticamente a parlare di Superlega però bisogna parlare i bilanci e domandarsi perché le società di calcio italiane su 20 società 15 praticamente hanno bilancio in passivo facendosi questa domanda viene fuori il presupposto cioè il perché praticamente ci sono questi passivi evidentemente le società di calcio non hanno la possibilità di mantenere e di mantenersi in relazione ad altri campionati più importanti per esempio noi nel 2006 eravamo il campionato più bello adesso siamo il terzo o il quarto campionato quindi siamo scesi nella considerazione generale e il motivo è perché non ci sono più i giocatori importanti sei d'accordo con la scelta di Mancini di andare a guadagnare di più ma io su questo argomento qui sono un po' titubante sai perché prima di tutto una cosa a tutti i moralisti a tutti i moralisti che dicono Mancini è andato a prendere 100 milioni vorrei dire chi sono quelli che avrebbero rifiutato la rosa del genere sono perfettamente d'accordo quindi il problema di fondo è questo e poi dopo c'era un qualcosa che non funzionava tra lui e il presidente perché il presidente che entra nello staff di Mancini e toglie Evani e lo manda via è chiaro che l'allenatore dice ma queste cose le faccio io quando io ho vinto l'Europeo Evani stava con me quindi tu adesso perché siamo stati eliminati o perché non stiamo andando bene mi togli i giocatori dallo staff e allenatori dallo staff e questo è un qualcosa che ha inclinato rapporti e poi dopo che Mancini sia andato lì a prendere 100 milioni io l'avrei fatto pure io sono d'accordo mi aggrego anche io avrei fatto la stessa cosa invece dal 2009 le squadre devono sottostare al fair play finanziario UEFA ci puoi spiegare che cos'è questo benedetto fair play finanziario il fair play UEFA è quello che praticamente hanno stabilito hanno seguito in pochi cioè bisogna spendere non più di quello che si guadagna e quando si va a trovare praticamente squadre per esempio il Paris Saint Germain c'era il presidente dell'ECA che è quello che dovrebbe guardare praticamente il fair play delle squadre italiane delle squadre non italiane ecco quindi il controllore è dentro la squadra che deve essere controllata se lui esatto se lui praticamente deve controllare guardate quello che ha speso il Paris Saint Germain e voglio dire da lì potete capire che era un qualcosa tant'è che adesso hanno cambiato adesso non c'è più il fair play adesso basta quindi era una cagata più o meno una cagata chiaro domanda così secca comprare Cristiano Ronaldo secondo te è stato un errore? sì è stato è stato un errore secondo me comprare un giocatore a tanto stipendio è stato e poi ha un'età abbastanza avanzata ed è stato anche forse l'errore maggiore mandarlo via quando la Juventus poteva vincere il campionato perché nell'anno in cui è stato mandato la Juventus se avesse avuto un giocatore che segnava un gol a partita vinceva il campionato non so se ti ricordi quando l'Inter tu non ricorderai sicuramente questa cosa no l'Inter è andato a Torino a vincere 1-0 se avesse perduto questa partita anziché vincere la Juventus era in lotta per il campionato se avesse avuto Ronaldo probabilmente faceva qualcosa di meglio quindi è stato un errore prenderlo ma un errore più grosso mandarlo via nel momento meno opportuno chiaro invece per quanto riguarda il futuro del campionato e del calcio italiano che sicuramente sta affrontando una crisi in questo momento e dall'altra parte invece ci sono campionati come l'Arabia Saudita che sta spendendo un patrimonio incredibile e sembra stiano acquisendo sempre più importanza innanzitutto ti chiedo se secondo te il calcio saudita è un po' una bolla secondo te o è un qualcosa destinato a diventare concreto no io assolutamente non penso anche perché io ho avuto l'esempio di Maradona quando praticamente Diego ha spesso giocare in fascia l'allenatore l'allenatore l'ho portato a Dubai a fare l'allenatore e ti dirò di più sono arrivato praticamente a Dubai lo sceico mi ha fatto vedere praticamente nel telefonino aveva la foto sua e sotto cosa c'era scritto sono il moggi di Dubai però nella sostanza qual è è che è un calcio troppo particolare cioè gli piace quel calcio lì ma non è costruito professionalmente come dovrebbe essere costruito perché vanno a prendere i giocatori di più nome vanno a prendere i giocatori che qui magari avrebbero fatto gli ultimi anni dell'attività li portano in una squadra che praticamente se ha forte il centrocampo ha debole la difesa oppure l'attacco e non possono concludere niente però in questo momento secondo me gli arabi finito il petrolio hanno stanno cercando il mezzo per avere potere un'alternativa a quando finirà il petrolio questo è evidente credo non sia nemmeno un segreto puntano tanto sul turismo puntano tanto sul calcio però succederà una cosa secondo me che diciamo il calcio non porterà niente di particolare e probabilmente spenderanno tanti soldi che hanno guadagnato con il petrolio li tornerà è un effetto boomerang non bello è un effetto boomerang fino a che punto non lo so ma sicuramente spenderanno molto senza costruire tanto sì l'idea è un po' un calcio fresling è un po' sì più o meno allora questo praticamente deve essere considerato un qualcosa che è come un divertimento per loro attenzione ci sono così tanti soldi che praticamente possono andare a costruire a costruirsi delle caratteristiche diversive anche con il calcio perché il calcio è seguito e quindi loro cercano di attrarre i nomi migliori i nomi più importanti per poter avere poi un ritorno che non sarà un ritorno rispetto a quello che hanno avuto con il petrolio però è come se fosse la superlega in questo momento perché vedi la superlega è un concetto un po' particolare è vero che era stata articolata per favorire le società più importanti eccetera però si possono fare anche dei cambiamenti in corsa a questa cosa qua la sostanza però qual è se tu aiuti le società maggiori a queste praticamente dai un potere economico che possono gestire comprando giocatori da quelle inferiori e questo praticamente è un giro che potrebbe riportare il calcio in una certa maniera a evidenziarsi ancora più di quello che è adesso quindi la superlega è stata probabilmente detta male nel tempo cioè quella mezzanotte che viene fatto il comunicato eccetera più o meno la stupitaggine tempistiche sbagliate tempistiche sbagliate però attenzione della superlega ne avevano già parlato in lega due tre mesi prima quindi non è che era una cosa intempestiva oppure era un qualcosa di segreto assolutamente no solo che come al solito i media hanno preso questo comunicato a mezzanotte di un certo giorno praticamente e ne hanno fatto una questione di principio hanno portato avanti quello che sostanzialmente in questo momento non è ma che potrebbe essere fino a quando l'Arabia tirerà fuori i soldi probabilmente non ci sarà bisogno della superlega chiaro e a tal proposito mi collego con il campionato cinese che un po' diciamo pedissequamente prima dell'Arabia Saudita ha cercato di fare quello che oggi sta facendo l'Arabia Saudita però credo si possa dire che si è dimostrato una bolla a tutti gli effetti sì ma succederà anche in Arabia non è che cambia soltanto che lì in Cina c'è un presidente che che salutiamo tra l'altro sì ma è un presidente veramente che conta io ricordo che ci ho mandato Lippi ci è andato Cannavaro ci è andato addirittura Ventrone che adesso purtroppo è morto sono andati tutti lì a fare a fare quello che sostanzialmente era l'intendimento di un presidente cioè di uno che gestionalmente voleva creare i presupposti per fare squadre importanti perché il calcio decollasse però si è accorto di una cosa si è accorto che venivano spesi dei soldi inutilmente per giocatori inutili e a quel punto lì ha dato un'alte ha detto adesso basta non escono più soldi dalla Cina praticamente se non per motivi diversi e infatti tutti quelli che erano in Cina sono ritornati indietro perché praticamente non prenderanno più stipendio hanno chiuso i rubinetti diciamo invece secondo me è curioso il caso del calcio americano che con l'acquisto di Messi secondo me potrebbe avere magari mi sbaglio delle prospettive più solide rispetto a ciò che sta facendo l'Arabia Saudita no niente non ci ho provato mi sembrava no perché credo che gli americani a differenza dei sauditi gli americani adesso invece vengono in Italia vengono in Italia sono a Genova sono a Parma hanno proprio al Milan c'è il giocatore forse più importante americano sì al Milan c'è un po' di confusione perché quello che è successo dopo il derby è indice di confusione perché non si può io sono praticamente la persona meno indicata a parlare di Ibrahimovic perché l'ho portato io perché è un grande uomo perché è stato un grande giocatore perché però non si può dopo il 5-1 del derby far vedere Ibrahimovic in il ritiro con la squadra toglie autorità a Pioli è come se dicesse che Pioli ha bisogno di Ibrahimovic e questo qua praticamente non è contemplato da tutto quello che hanno detto Furlani e i compagni non fa bene al clima no assolutamente io credo che sia stato una diciamo un qualcosa che non doveva essere e ti ripeto io sono convinto che Ibrahimovic possa dare una mano attenzione a questa squadra però non così come è stato cacciato Maldini per me è una cosa fuori posto e fuori luogo anche perché gli era stato detto che lui aveva un mercato negativo perché aveva preso quel giocatore belga eccetera però non hanno tenuto conto del campionato che il Milan aveva vinto e l'aveva vinto essendo anche inferiore ad altre squadre però con la forza morale di dover andare il gruppo avanti di gruppo esatto dove Ibrahimovic aveva fatto la sua parte su questo non c'è dubbio e adesso hanno fatto un insieme di giocatori tutti bravi con i piedi bravissimi però con ruoli distanti tutti bravi perché praticamente invadono l'area di rigore avversaria meno bravi però quando difendono e si prendono delle ripartenze perché il centrocampo non fa filtro al centrocampo magari se si fossero tenuti i tonali e Benasseno si fosse infortunato probabilmente avevano più forza perché il centrocampo praticamente adesso permette gli inserimenti e la difesa è sempre nell'uno contro uno è quello che è successo nel derby quindi il tuo pronostico da quello che mi hai detto prima poco prima dell'intervista è che l'Inter vince il campionato non so se gli interisti secondo te la prendono bene il fatto che tu pronostichi che l'Inter vince il campionato se ne la prendono male pazienza io siccome sono tenuto a dire quello che penso valuto prima le forze io credo che l'Inter abbia fatto un qualcosa di importante perché in ogni ruolo ha due giocatori che sono tutti e due titolari attenzione quindi il problema di fondo è stato costruito perché per esempio l'acquisto di frattesi avendo Mkhitaryan è un acquisto importante perché sostituisce non un centrocampista ma una mezza punta che si inserisce bene praticamente il vecchio Mkhitaryan per il buon senso anche per l'attività che ha fatto fino ad ora e l'altro per la freschezza quindi quando entra si fa sentire l'ha dimostrato in nazionale lo dimostra praticamente anche l'ha dimostrato nel derby per cui io guardo quello che praticamente è poi dopo posso anche sbagliarmi per carità non è mica che sia infallibile però nella sostanza ora come ora l'Inter è più squadra io prima che cominciasse il campionato ho detto alcune cose ma prima ho detto che il Napoli non avrebbe ripetuto il campionato dell'anno scorso ho detto che la Lazio non si sarebbe classificata al secondo posto come l'anno scorso due squadre che praticamente avevano fatto bene che secondo me quest'anno non faranno molto bene e poi avevo detto che l'Inter praticamente poteva vincere il campionato e il Milan non è detto che non faccia bene perché io ho solo avanzato un'ipotesi avendo comprato otto giocatori ho solo detto che la struttura ha bisogno di un certo rodaggio e senza questo rodaggio praticamente non si stabiliscono le comunicazioni tra i settori centrocampo attacco e difesa e questo mi è sembrato proprio evidente nel derby chiaro quindi però mi pare di capire che se la giocheranno secondo te Milan e Inter sì penso proprio ma il Napoli sicuramente ci metterà a becco la Juventus per esempio ha adesso il calcio ha tante sfaccettature il problema della Juventus per esempio gioca con il Bologna e la criticano gioca con la Lazio praticamente e la elogiano sembra che abbia cambiato il gioco non è così il problema di fondo qual è che la Lazio è andata a vincere la settimana prima a Napoli contro un Napoli che non è neppure lontano parente di quello di Spalletti perché è dipendente da Osimene e quando Osimene non è in forma come adesso non tocca palla prima scombinava difese centrocampo eccetera e segnava gol e li faceva segnare adesso è completamente fermo praticamente non tira mai in porta e il Napoli di conseguenza è bloccato in tutto quello che era attivo quindi è andato a vincere la Lazio a Napoli mi sembrava di aver fatto chissà che e invece non ha fatto niente perché che il Napoli non c'è in forma l'ha fatto vedere il Genova nel pareggio di 2 a 2 è solo Politano ha fatto una prudezza per pareggiare altrimenti perdeva pure chiaro beh io chiuderei questa intervista con una domanda un po' leggera visto che ti sei dimostrato un grande talent scout no? guardando oggi i giovani calciatori italiani quali pensi che siano i giocatori più promettenti secondo te? eh questa è una bella domanda io credo sempre in chiesa in chiesa eh io credo sempre in chiesa credo nei giocatori dell'Inter sicuramente credo in tonali credo in tonali però è tutta una questione di vederli in campo allenati nella maniera più giusta per capire anche la testa del giocatore conta molto per l'attività futura quindi vederli uno da una parte uno da un'altra è difficile stabilire chi può diventare buono o meno però per esempio Barella Barella è un giocatore consolidato Barella e Siananoglu sono due forze che sono state messe dall'Inter in una maniera congeniale ottimale direi Barella è quello che ferma l'avversario e fa ripartire la squadra e Siananoglu è la testa è così che si vanno le squadre ed è così che si valorizzano gli italiani i ragazzi perché Barella ha un riferimento davanti praticamente Chiesa nella fattispecie se sta in forma dopo l'infortunio ha fatto vedere già Domenica di essere uno sul quale si può contare ma bisogna guardarli nelle proprie squadre per capire bene va bene ti faccio un'ultima domanda nella mia curiosità secondo te Zaniolo aveva le caratteristiche fisiche e tecniche per diventare un fuoriclasse e sono stati l'infortunio a penalizzarlo più la mentalità allora Zaniolo aveva le caratteristiche fisiche gli mancavano altre caratteristiche cioè lui è uno che se lo mette in centrocampo non è un centrocampista se lo metti in avanti non è un attaccante se lo metti esterno non è un esterno però è tutto e nella sua confusione praticamente può creare dei problemi anche agli avversari ma più le volte gli tolgono il pallone che non quindi sotto quel profilo direi come fisico non c'è dubbio che è forte e strutturato bene nonostante gli infortuni il resto non è un giocatore sul quale si può contare per un determinato ruolo chiaro chiuderei con una domanda diciamo un po' esistenziale come le piacerebbe essere ricordato no a me non mi piace essere ricordato mi piace praticamente essere chiaro però inevitabilmente anche io mi faccio le domande su come vorrei essere ricordato da amici parenti ma soprattutto nel mondo del calcio ma io a dire la verità allora sono un personaggio un po' particolare se posso definirmi un personaggio allora io non ho mai avuto paura di niente quando sono padrone di un mestiere praticamente esercito il mestiere non ho mai cercato di allungare i giorni praticamente per perdere tempo eccetera quello che ho dovuto fare l'ho fatto nell'immediato e l'ho fatto proprio perché ero padrone appunto del mestiere altri ricordi possono ricordarmi perché non mi ha fatto spendere soldi alle società di calcio perché ho vinto parecchio su questo sì posso ricordarmi ma se non mi ricordano va bene lo stesso sembra un'ottima chiusa ringraziamo Luciano Moggi per essere stato con noi e ci vediamo una prossima puntata di Wolf ciao amici grazie a tutti grazie a tutti